progettare un impianto audio un impianto luci non è certo una questione da scienziati ma non è anche una questione da fidare al primo che passo al vicino di casa così come tutti gli impianti dall impianto elettrico l'impianto di riscaldamento l'impianto idraulico richiede che chi compila un preventivo sia competente in materia sia conoscenza dei materiali del comportamento delle attrezzature e anche delle esigenze dei clienti che di volta in volta sono diverse e del preventivo dovrà essere in grado di accontentarmi preparare un preventivo infatti vuol dire ottenere principalmente due scopi il primo è quello di ottemperare le esigenze per il quale siamo stati interpellati cioè l'impianto dovrà esattamente soddisfare i bisogni e le necessità del cliente e del locale nel quale viene installato l'altro obiettivo è ovviamente quello di spendere bene i propri quattrini non gettare al vento infatti semplicissimo preventivare un impianto che costa poco felici nel momento in cui vediamo la cifra piedi pagina ma poi l'impianto non funziona non fa quello per il quale l'abbiamo acquistato così come è altrettanto inutile sovradimensionare l'impianto pieno di apparecchiature fantasmagoriche che poi gli operatori non saranno in grado di utilizzare e a buon intenditore poche parole è chiaro quindi che è molto facile a fare un preventivo con 8 casse da 100 watt 7 per 8 54 con riporto di 2, ok no bisogna conoscere molto bene abbiamo detto le attrezzature in questione ma soprattutto le esigenze del cliente ecco perché a piede di questa pagina trovate una specie di questionario una serie di spunti che potrà servire sia per far vedere domande sia per fornirci le migliori indicazioni via mail o anche via telefono su quelle che sono la destinazione d'uso e le caratteristiche che dovrà avere il vostro impianto audio o luci che sia direi infatti che è indispensabile avere la corretta intestazione del cliente anche per evitare di fare una serie di preventivi a concorrenti non a clienti come spesso ci capita avere una piantina anche disegnata a mano per avere unire degli spiagli spazi di cui stiamo parlando e avere una serie di input su quella che è la destinazione d'uso abbiamo detto del locale può essere una sala da per 70 anni o una discoteca per ragazzini impasticati che capite che tra questi due estremi ci sono una miride di possibilità ci sono due punti che dobbiamo sicuramente affrontare il sopralluogo e l'installazione e da tanto tempo che facciamo questo lavoro e sappiamo bene che il committente gradisce molto il fatto che chi fa il preventivo facciano sopralluogo certo non è assolutamente una cosa negativa anzi ma dobbiamo dire che di muri ormai ne abbiamo visti parecchi quindi una piantina ci è sufficiente soprattutto se corredata come dicevamo da una chiacchierata o un minimo di relazione su quello che ci si aspetta quello che succederà in questo ambiente la fornitura dei materiali è estremamente veloce dalle 24 ore fino ai tre giorni per i materiali più strani a quel punto viene ovviamente in mente il problema di chi mi installa questo questi impianti il mio punto di vista è quello che gli installatori dovrebbero fare al meglio il loro lavoro i venditori e progettisti dovrebbero fare al meglio il loro in modo che non ci siano commissioni i costi che si caricano vicendevolmente tra installazione e fornitura di materiali ma l'aspetto più importante in realtà è che l'ideale che l'impianto venga installato da qualcuno di vostra fiducia soprattutto a chi ha accesso agli impianti elettrici ad esempio in modo che non ci sia la solita lotta tra tecnici che ha fatto questo che ha fatto quello e che la persona che l'ha installato sia in grado poi di seguirvi anche successivamente nel caso dobbiate spostare due casse o due fare ad esempio inoltre il vostro tecnico di fiducia potrà tranquillamente certificare se nel caso ce ne fosse bisogno l'impianto elettrico che state utilizzando è ovvio che qualsiasi imbarazzo dovesse avere il vostro installatore verrà semplicemente risolto con una telefonata ai nostri tecnici che saranno ben felici di indicargli come risolvere il loro problema sul sito nella sezione degli impianti trovate una serie di esempi che se siete fortunati possono essere presi così come sono possono fare da spunto per scegliere in autonomia i vostri apparecchi ma non abbiate nessuna remora interpellarci fornendoci tutti i dati in modo da potervi a nostra volta fornire il miglior preventivo possibile per quanto riguarda gli impianti di diffusione sonora audio e luci il nostro sito è www.audiolucistore.it o www.ilmicrofono.it mi invitiamo a seguirci anche sul nostro canale youtube dove ci sono parecchi video di approfondimento su varie questioni inerenti il mondo punto audio luce a presto